La tiberina è provinziale la strada per cui non è manco statale Siamo in provincia di Arezzo Siamo in Toscana Siamo in provincia di Arezzo Sì Guarda che ci simulziamo senza casco Siamo in provincia Ciao Gabriele Ciao Dario Non dirmi che passa il camion Siamo in provincia 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 Sì! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Uno dei motivi per cui volevo evitare di allungarla di là era che saremmo persi questo. Eh sì, se no questa ce la perdevamo perché passavamo molto più in là. Facevamo tutti quei monti di là. Il rischio è morto va bene. 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 Il rischio è morto. 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 è morto. Il rischio è morto. Il rischio è morto. Il rischio è morto. Questo è derolo di là.